Benvenuti carissimi telespettatori e bentornati su casertasera.it con Emanuela Raucci per assistere al nostro primo incontro della giornata. Oggi siamo qui per un faccia a faccia snello, semplice, veloce ma soprattutto piacevole con una giovanissima ragazza che ha superato le prove di Marano di Napoli per la selezione di Miss Mondo e dovrà guadagnarsi il passaporto per Gallipoli. Oggi è qui con noi la nostra Morena Scirocco. Tu sei giovanissima, hai soli 19 anni e nonostante la tua tenera età hai già un bagaglio di esperienze e di concorsi alle spalle notevole. Come ci si sente di essere protagonista in questi numerosi eventi? Un'emozione ovviamente inspiegabile. Già dal primo concorso a cui ho partecipato è stata un'emozione a cui non mi aspettavo proprio di poter partecipare. Il mio primo concorso è stato all'età di 16 anni in quanto è iniziato tutto per puro caso. Ero su una pagina Facebook e vedo un'iscrizione a un determinato concorso che era Miss Incanto, il mio primo concorso, in quanto ho deciso di partecipare guadagnandomi la prima fascia. I nostri telespettatori saranno curiosi di conoscerti meglio. Parlaci un po' di te, di dove sei, che cosa fai nella vita? Allora, io sono di Liberi, un piccolo paesino in provincia di Caserta. Attualmente sono sul comune di Liberi e presso Servizio Civile Universale dove valorizziamo tutte le bellezze culturali e artistiche del nostro piccolo comune. Ho frequentato l'alberghiero di Pedimonte Matese, diplomandomi in sale in vendita e ho preso un anno sabbatico in quanto sono ancora molto indecisa sulla mia carriera. Amo la moda, quanto amo anche le forze armate, in quanto mi è stata trasmessa questa passione da mio padre, quindi sto studiando per attuali concorsi. Potresti sicuramente rappresentare un esempio per le giovani ragazze che come te vogliono intraprendere questo percorso. Raccontaci come è nato e perché poi è maturato questo amore per il mondo dello spettacolo. Già all'età di 5 anni ero molto piccola ovviamente e è iniziato tutto come un gioco. Andavo a casa delle mie cuginette, provavo vestiti, facevo sfilate e loro mi assecondavano anche sapendo che fosse soltanto un gioco. Poi, come ho già detto in precedenza, all'età di 16 anni ho voluto provare a immettermi proprio in questo mondo per capire se era un mondo che potesse piacermi oltre al semplice gioco. Quindi ho fatto il mio primo concorso e ho preso la prima fascia. Questa è stata comunque una tappa molto importante che mi ha dato la forza comunque di andare avanti e non demordere mai, essere sempre molto prespicace anche al semplice concorso. E ho fatto il secondo concorso che era Miss Mondo Campania dove ho preso il titolo di Miss Mondo Campania 2019. Con questo titolo ho avuto comunque l'accesso per andare a Gallipoli alla finalissima e sono arrivata tra le ultime 50. È stato molto difficile comunque passare un mese a Gallipoli in quanto essere lontano dagli affetti è veramente difficile. Però le organizzatrici ci hanno veramente fatto sentire a casa e conoscendo anche moltissime persone diciamo che ho avuto anche modo di scambiare bagagli culturali diversi e anche arricchirmi culturalmente. È stata veramente un'esperienza bellissima per me, anche non avendo vinto, però essere arrivata tra le 50 finaliste per me è stata un'emozione grandissima. Noi immaginiamo assolutamente l'emozione e l'entusiasmo, ma siamo curiosi. Cosa hai provato, cosa hai pensato quando hai saputo di aver superato la prova e quindi di andare a gareggiare poi per Miss Mondo? Inizialmente non ci credevo perché erano tutte bellissime le ragazze in quanto la mia autostima non era altissima e vedendo tutte quelle ragazze diciamo che non pensavo di poter concorrere. Quando ho guadagnato questo titolo la mia emozione è stata grandissima a tal punto comunque da non credere. Io pensavo fosse tutto un sogno, ho detto è impossibile che sia successo a me e stando a Gallipoli veramente ho capito che basta non demordere, puntare sempre l'obiettivo e andare sempre avanti. Un'ultima domanda e poi ti salutiamo. Nell'ultima intervista rilasciata al nostro direttore Lorenzo Applauso su Il Mattino hai parlato di obiettivi ambiziosi, di prospettive lungimiranti. Quali saranno questi obiettivi in caso di affermazione a Miss Mondo? Il primo obiettivo ovviamente sarebbe quello di concorrere nel mondo della moda in quanto a chi non piacerebbe di poter sfilare per Versace, Gucci ovviamente è un obiettivo molto molto alto che mi sono posta e non è da tutti i giorni però credo che quando si fisso un obiettivo piano 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 si può comunque raggiungere. Grazie Morena, noi ti auguriamo una carriera prosperosa ricca di soddisfazioni e di belle sensazioni. Da Emanuela Raucci è tutto per casertasera.it io ringrazio la regia, il nostro direttore Lorenzo Applauso la nostra Morena per la disponibilità e soprattutto voi telespettatori che ci state seguendo da casa. Grazie mille e buon proseguimento di giornata. Sigla!